Molti gli accordi sottoscritti alle tavole bilaterali italiani e russi e nell'ambito della finanza gli accordi riguardano poste italiane, Selex, poste russe, Unicredit, Simest e Finest con Zaunicredit Bank, Mediobanca con Web, Como e sempre con Web, UbiBank con Transcapital e Bank, Fondo Strategico Italiano con il Russian Direct Investment Fund e Sales con Web. In abito di energia gli accordi sono tra Enel e Rosneft, due interessi tra Enel, due intese tra Eni e la stessa Rosneft, Eni e Novatec, Psyman, Rossetti, Russian e Giz, Cedi e Rossetti, Russian e Giz, insieme a molte altre età. Per quanto riguarda poi l'industria, gli accordi sono tra Fincantieri e Kralov, States Research Center, Pirelli con Rosneft e Rostec, Inalca con l'amministrazione regionale di Orenburg, Istituto Italiano di Tecnologie e le Centro per l'Innovazione di Scolcomo ed Enningrine con Cise Toccomo.